Per un campionato di vertice servono rinforzi, specie a centrocampo. A confermarlo anche il test col notaresco, sfumato San Nipoli, preso dall'Avellino. Notizia che abbiamo anticipato sabato scorso, Delicarri è a caccia di una mezzala a tutto campo. In questo momento la Rosa è senza dubbio meno competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Le amichevoli contro Pineto e Notaresco non hanno fugato dubbi e perplessità. Certo, bisogna considerare i pesanti carichi di lavoro. Fino a sabato scorso la squadra si è allenata duramente, come giusto che sia in questo periodo. Il giudizio dunque non può essere definitivo e parentorio. Ma se nell'ultimo campionato i biancazzurri sono andati ad un centimetro dalla finale per la promozione in B, è legittimo aspettarsi una stagione di primissimo livello. Il campo naturalmente dirà, ma intanto ora l'organico in Monco, specie in mediana. Come detto, urge una mezzala a tutto campo. Tentativo per Thomas Battistella del Modena, al momento no secco del club emiliano. Cresciuto nell'Udinese, 22 anni già compiuti, Battistella si è messo in evidenza due stagioni orsono in C nella Carrarese. Contotò di Natale, allenatore al primo anno tra i professionisti, 35 presenza e 7 gol, di cui uno realizzato nelle immagini contro il Pescara. Settembre 2021, momentaneo pareggio della partita terminata 2-1 per i biancazzurri di Gaetano Auteri. Lo scorso anno Battistella è stato acquistato dal Modena, stagione sfortunatissima, caratterizzata dalla rottura del legamento crociato. Lungo stop, ma oggi si è completamente ristabilito. Nello stesso ruolo non convince il 34enne Fabio Scarsella della Vicenza, che già lo scorso gennaio era stato proposto alla Pescara in cambio di Vergani. Riserve legate all'età del calciatore, ma anche ad un infortunio muscolare accusato dall'ex Modena lo scorso anno. Altro profilo monitorato, Emanuele Zuelli, ex Chievo, Juve Under, 23 ora di proprietà del Pisa. In realtà, per caratteristiche, non è un calciatore perfettamente funzionale al credo del boemo. Più regista che mezzala. Inarrivabili Sunas e Tribuzzi. In uscita Colai, destinato al Cesena, e Luca Mora, a cui è interessato il Trento. Partenze che potrebbero sbloccare l'ingaggio appunto di una mezzala adatta al verbo di Zeman.